Oltre 1500 auto blu in Sicilia, più di 100 per il comune di Catania e altrettante per il municipio di Palermo. A Marsala, dove per l'appunto sono marsalesi, il comune ne ha 82 e qualcuna con l'antenna della radio che parte dal muso della macchina e finisce, con rispetto parlando, incastrata nel di dietro. Non c'è possibilità di parcheggiare in Sicilia e questo non perché la casta nuoti negli sprechi, ma perché l'idea di farsi trovare a piedi in Sicilia è disdicevole, farsi trovare strada a strada, infatti è un design ontologicamente zaurdo, tascio, un poco troppo bigliano, tanto è vero che si devono fare 100 metri in Sicilia per esempio, si prende la macchina e magari si parcheggia a 3 km di distanza, rigorosamente in doppia fila e mai, mai, mai si prendono i mezzi pubblici, meno che mai la metropolitana. L'auto blu dunque è una necessità, non uno sbruffo in conseguenza di quel design ed è motivo di un'importante disputa filosofica contemplata nella celeberrima e clarissima storia della filosofia del sottile, dove si viene a capo della controversia ingaggiata in illo tempore dal duca di Salavaruta, secondo il quale dopo ogni acchianata c'è la scinnuta e poi dal principe aliata che di contro a quella tesi sosteneva come dopo ogni scinnuta c'è infine l'acchianata. Insomma, tutta la teoretica filosofica è stata dunque obbligata al tentativo di conciliare il Salavaruta dell'acchianata con l'alliata della scinnuta e solo oggi, nel segno dell'impegno civile, quello glemur e legalitario, grazie all'invenzione della bicicletta montante, il velocipede antimafia cantato anche nei racconti di Andrea Camilleri, si può addivenire alla soluzione di questa problematica. Tutti gli uomini chic e le femmine pittate, che sono notoriamente antimafiosi, pedalano montante e sono solo i più sfortunatissimi tra gli uomini in Sicilia a dover utilizzare l'auto blu, motivo per cui, non avendo risolto la controversia, non godono della perfezione dialettica che qui si predica. Tesi, scinnuta, antitesi, acchianata, sintesi, bicicletta montante, con marcia antimafia a scartamento ridotto. Grazie a tutti.